Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Domenica 29 settembre 2024, durante una puntata di Uno Mattina in Famiglia, un episodio increscioso ha macchiato la diretta del programma. Mentre Carmelo, un concorrente, si esibiva nel gioco Canta che ti passa, alcuni presenti in studio hanno rivolto commenti inappropriati sul suo aspetto fisico, ignari del fatto che i microfoni fossero aperti. Frasi come «Ma è maschio o femmina?» e «Mamma mia, ma chi è questo?» sono state chiaramente udite dai telespettatori, suscitando un'ondata di indignazione sui social media. L'accaduto ha sollevato un ampio dibattito sulla necessità di un maggiore rispetto e professionalità all'interno dei programmi televisivi, nonché sulla necessità di un controllo più attento dei contenuti trasmessi. A seguito dell'episodio, numerose voci si sono levate chiedendo alla RAI di prendere posizione e di adottare misure per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. L'accaduto rappresenta un chiaro esempio di come anche un programma televisivo popolare possa essere teatro di episodi di intolleranza e discriminazione, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza e sensibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione televisiva. E tu, cosa ne pensi di quanto accaduto? Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella.